ecco vediamo un po' se stasera riesco a mettere bene qui, eccomi allora ragazzi scusate il ritardo, ho avuto un imprevisto si, ho sforato un po' di 8 minuti, si 9 adesso allora eccomi eh, vediamo un po' chi si collega ciao vediamo un po' chi c'è in linea allora vediamo un po' ragazzi nel frattempo che lascio qui la diretta collego un attimo il microfono e partiamo subito perché poi c'è Federica scusate il ritardo, oggi ho avuto un imprevisto e quindi sono arrivata proprio all'ultimo minuto come state? scrivetemi eh io intanto faccio partire la musica e monto il microfono eccomi ragazzi ci sono, preparo tutto e iniziamo eh mi guarda di tanto ma recuperiamo ok? allora vediamo un po', intanto scrivetemi se volete eh mi fa piacere se scrivete qualcosina allora vediamo un po' come state? come va? tutto bene? io mi la canto e mi la suono, qualcuno mi risponde? c'è qualcuna? oh niente salta il collegamento perché c'è un c'è un call center che chiama in continuazione e quindi vediamo un po' la se la smettono di chiamare io mi so come fa allora vediamo eh ci sono ci sono ragazze inizio e iniziamo la nostra lezione ma iscrivetemi, qualcuno mi iscrive? c'è qualcuna? qualcuno mi iscrive ragazze? io ci sono eh metto la musica e partiamo oggi è tutto così poi vi racconto perché ho fatto un po' di risardo eh gli imprevisti, gli imprevisti dell'inverno ragazzi gli imprevisti dell'inverno, mi è andata in giro con la caldaia e quindi c'erano i tecnici naturalmente sono fatti ritardo e quindi di conseguenza è fatti ritardo anch'io allora ci siamo, partiamo oh 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 eccoci partiamo qui ci sono eh voi intanto posizionatevi che si parte subito ok vieni ah 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 vediamo un po' ah ah chi non si sente chi va chi non va chi non va chi non va non è un po' di fare l'inverno di giusto certo ah 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 eccoci ok ragazzi partiamo ok partiamo di stradarci pronti qui e qui e qui posizioniamoci e qui bella questa passiamo qui uno due su e cammelo su su la ritorno la ritorno uno due tre e qui stop cammelo iniziamo ancora uno ragazzi qui occhio qui indrocio apro e ancora lento lento dietro inizia lento insietro veloce si va buonga mancini cancellare buongi un po' di secondi ancora iniziamo a rispondarci iniziamo la nostra lezione di show ancora buongi destra sud ragazzi compri prima e iniziamo la nostra lezione qui qui ancora qui cambio ancora cambio qui uno due tre stop uno due emotione più e molto vicino in alto ragazzi come prima e qui indrocio e apro ancora auto come prima, lento lento, voliti dietro adesso ascolta la musica e lascia andare veloce vieni avanti ancora muoviti come vuoi, muschere fermo ancora andrei dai uh 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 stop un bel respiro riscaldando un bel mato iniziamo ragazzi pronti ascolta qui scantaccia ancora inizio a spagnarmi ancora 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 6 6 6 7 8 9 6 6 7 7 8 8 9 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 15 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 16 16 16 16 18 15 16 16 17 19 19 19 Oh, 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 oh. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie a tutti 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 Vediamoci Grazie a tutti 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 Andiamo Grazie a tutti Andiamo 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 Grazie a tutti Andiamo 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 Andiamo